Luca, Luca, fatti vedere. Grazie a tutti, sono stati tutti bravi, bravi, adesso vediamo, come ti chiami tu? Marica, adesso ti do qui di qua, tu invece, fatti il bravo, si, si, è stato bravissimo, tutti sono bravi, poi abbiamo, Francesco, senti l'amore, grazie, ma c'è un bimbo più grande, 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 ciao, come ti chiami, bellissimo, guarda che è fidata la pepana, porta la pepana, ora, andrata un po', dai, adesso torno, torno di nuovo, torno di nuovo, In questo... Bel giorno sei qui! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Mi piace? Quanto posso le cose? Per me, per me, per me! Per me, per me! Per me, per me! Per me, per me! Con i bimbi, con i bimbi che facciamo la foto qua nel corridoio! Adesso non lo so! E' rimasta una... Una ragazza... La ragazzina! E' quella... Signora! Buongiorno! Grazie mille! C'è che guardate pure un'albola! Eh, grazie! Questo è veramente un bel regalo, eh! E' che era meglio! Ah, sì! La forestale! Grazie! 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 Grazie!